Enrique Mazzola, compositore, direttore d'orchestra di fama internazionale, nel 2009 è stato nominato primo ambasciatore del vino nobile nel mondo. Da allora, proprio anche grazie a Mazzola, che di Montepulciano conosce veramente tutto, non solo perché ci abita, ma anche perché, ad esempio, è stato dal 1999 al 2003 direttore artistico del Cantiere Internazionale d'Arte, il nome del vino di Montepulciano ha fatto, nel vero senso della parola, il giro dei quattro angoli della terra. Prossima tappa, Parigi, Mazzola è infatti il nuovo direttore di una delle orchestre nazionali di Francia e dunque, per non sfigurare con i cugini transalpini che di vino qualche cosa ne sanno, meglio partire direttamente dalla vigna. Bisogna, secondo me, conoscere il vino nobile di Montepulciano dalla A alla Z e quindi qua siamo alla A, appunto. Si comincia da qua e secondo me è un passaggio obbligato per poi arrivare alla Z, che è il consumo, il godere di questo vino fantastico, ma anche farlo conoscere nel mondo.